Fero! Grazie. Sono la tua gente, suonavi in una band e vuoi fare qualche ritocco prima del grande ritorno. Sì, l'altra volta ero l'assistente di un mago. Tiriamo fuori i distintivi e perquisiamo il posto. Scherzi, Gillian, potrebbe scappare. Non possiamo correre rischi, qui avrà amici che la nascondono. Posso aiutarvi? Sì, salve, sono Kelly Banks e questo è il mio... Il suo agente, sì, sono il suo agente, Danny Collins. E lei la mia cliente, Kelly, ma io la chiamo Kiki. Suonano in una band di ragazze, Le Panthere, conosciute in Colombia come Las Panteras. Vanno forte laggiù. Sappiamo che voi siete i migliori e che siete riservati. Non voglio che su Twitter si parli dei suoi ritocchini. Assolutamente no. E temo che di ritocchi ce ne vorranno parecchi. Sollevamento dei glutei, addominoplastica, liposuzione alle cosce. Insomma, diciamo, una revisione a tutta la carrozzeria. Ma certo. Dopodiché passeremo al viso. Ci rifaremo il naso di nuovo. Con la speranza che questa volta venga bene. E queste paraboliche poi. Chi è? Ah, è Dumbo. Chiama perché non può volare senza le sue orecchie e le rivuole. Vi faccio visitare la clinica. Ok, bene. Grazie. Ma bene, liposuzione alle cosce. Sono stato creativo. E non ho detto niente del tuo... Che c'è? Smettila. Non ho detto niente. Come se ti fermo la luce. Questa è Lisa. Vi farà dare un'occhiata in giro. Salve, Lisa. Salve. Vieni. Ho visionato tutti i filmati del corridoio del dottor Russell e li ho confrontati con gli interventi fuori orario di tre settimane fa. Guardate cosa ho trovato. Vi presento Masood Davi, Fawad Zakari, Abdul Talwar e il nostro amico Hassan Rafiq. Tutti membri della cellula terroristica di Mogadiscio, gli shiutani. Shiutani significa diavolo in arabo. Sono ricercati dall'FBI per omicidio, riciclaggio e distorsione, fra le altre cose. Già. Ma queste sono le vecchie facce. A parte Hassan, non sappiamo che aspetto abbiano adesso. C'è una sola persona che lo sa. Jillian. Questo è il centro rilassamento. Tutti i pasti sono forniti dall'istituto culinario Beverly Hills. Hanno creato per noi una speciale dieta liquida. Kiki va pazza per la dieta liquida, vero? Qui ci sono i bagni minerali. L'acqua la importiamo dalle Alpi francesi. E laggiù che c'è? Quella è l'ala privata. Solo per i pazienti VIP e i medici. Oh, scusi, ma devo rispondere. La sua agente pubblicitaria diventa una belva quando ignoro le sue chiamate. I cellulari non sono ammessi in quest'area. Va bene, ti raggiungo, Kiki. Mi dispiace, ma devo proprio rispondere. Ciao, piccola. Senti, devo dire che questo posto è perfetto per un servizio fotografico. Sarà strepitoso. Scusate, mi dispiace tanto, giuro che non guardo. No, 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 non guardo. E poi sono un agente di polizia, perciò... No, non sono un pervertito, signora. Chiamola, scuretti. Scusate. Estrai al peperoncino. Kenzie? Ma che... Kenzie?